Allora, da tre mesi senza stipendio, come state vivendo questa situazione? Male, non ho bisogno di neanche farci mangiare, ho lette ferme, notifiche che arrivano più in ritardi, muore in casa e ci sono persone che hanno bambini da far mangiare. Purtroppo non hanno i soldi per andare a fare la spesa per i vostri figli. In cosa sperate oggi? Speriamo che almeno ci vengano attribuiti i mesi arretrati per il momento, poi ci sono altre cose che verranno poi trattate dai sindacati in altre sedi.